cosa ci guadagnano gli hacker a bloccare i siti e dipende dipende a volte sai che molte persone fanno le cose a volte lo fanno solo per danneggiare ci sono ricordate una cosa ci sono due tipi di persone ok quelli che occupano il tempo a costruire i propri castelli e quelli che non sono capaci a costruire i propri castelli e cercano di buttaggiù quelli degli altri perché così si sentono più fighi cioè come di io sono basso e invece di fare di tutto per alzarmi io faccio di tutto per spezzare le gambe agli altri così loro in ginocchio sono più bassi di me contenti loro cioè poi esiste un karma sopiano però insomma però bisogna prendere atto che esistono queste persone quindi di gente purtroppo quando ottieni risultati quando stai bene quando in qualche modo quando stai bene fai girare le balle fai girare quando così vanno bene fai girare le balle alla gente e devo cercare di fare di tutto in qualche modo per cioè non ben comune mezzo gaudio no e mal comune mezzo gaudio contenti e quindi invece di allargare le loro vedute cercano di stroncare le vedute degli altri e questo è per cui se non sono capace allarga loro li disabiliteremo noi che dobbiamo fare